Terra Amara, anticipazioni della puntata del primo aprile, una cena tranquilla tra amici. Ciao e benvenuti a tutti sul mio canale youtube serie tv spoiler. Siete pronti per scoprire cosa accadrà nella puntata di sabato primo aprile? Ma non perdiamo altro tempo ed iniziamo. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un bel mi piace al video. Ma dove siamo rimasti? Abbiamo visto l'inaugurazione del reparto pediatrico a nome di Zuleia. Nelle scene successive vedremo Unkar e Fekeli incontrarsi nel loro solito posto. Fekeli parlerà di come il loro amore sia stato troncato e di come sia stato difficile accettare il proprio destino. Il padrino farà notare ad Unkar come anche il Mas stia vivendo la stessa cosa che per amore ha sofferto e sta soffrendo ancora molto ma che ora è disposto ad accettare il suo destino. Così Unkar ascoltando le parole di Fekeli gli chiederà se lui stesso è riuscito ad accettare il suo destino e Fekeli le risponderà che sì l'ha fatto ma solo per amore della sua famiglia che purtroppo ormai non c'è più e che ora possono darsi la possibilità di colmare quella solitudine e a queste parole vedremo Unkar visibilmente emozionata. E a breve scopriremo anche che cosa hanno deciso di organizzare coinvolgendo le rispettive famiglie. Successivamente vedremo Fekeli parlare in salotto con Mushgan dicendole semplicemente il Mas sta arrivando sei pronta? Appena arriva il Mas Fekeli comunicherà che quella sera avranno ospiti a casa, gli Yaman stasera saranno nostri ospiti. Il Mas non prende la notizia nei migliori dei modi e chiederà a Fekeli se è impazzito ma all'improvviso interverrà Mushgan dicendo che lei è d'accordo, e che è giunto il momento di deporre le armi. Il Mas di tutta risposta non crede che Demir voglia porre fine alla loro guerra ma Fekeli invece è convinto del contrario, soprattutto ora che sono coinvolti dei bambini di cui due che devono ancora nascere. Ma il Mas non è convinto e chiederà a Fekeli di annullare la cena ma Mushgan insisterà portando come motivazione il fatto che non vuole crescere il bambino in un'atmosfera piena d'odio ma soprattutto non vuole che il figlio rimanga orfano o che veda il padre in carcere. Nel frattempo Zuley ed Demir sono pronti per andare alla cena organizzata da Unkar e Fekeli e lo Yaman guardando Zuley le chiederà se vuole davvero accompagnarlo e lei risponderà che lei è sua moglie e quindi lo accompagnerà. Anche Unkar vedendo Zuley è pronta rimarrà un po' stupita. Vedremo i tre arrivare davanti a casa di Fekeli ma prima di entrare Unkar raccomanda al figlio di non menzionare le terre acquisite da Fekeli e di non perdere la calma. Demir rassicura la matrona promettendole di non creare disagio a nessuno. Così gli Yaman entrano in casa, Fekeli, Mushgane, Mas e Beice li accolgono nella loro dimora e tutti si stringono la mano cercando di essere cortesi ma si percepisce l'imbarazzo e la tensione. Vedremo Mushgane andare in cucina per ordinare i caffè e Zuley la segue con l'intenzione di chiedere un bicchiere d'acqua. Durante questo momento Zuley saluta cordialmente Nazire che è in cucina anche lei e Mushgane domanda alle due come mai si conoscano. Zuley le risponde che avevano vissuto nello stesso il villaggio quando lavorava lì con il Mas. Poco dopo la figlia di Nazire entrerà nella cucina e vedendo Zuley l'abbraccia felicemente. Nonostante l'imbarazzo tra le due famiglie Fekeli da buon padrone di casa decide di prendere parola dicendo che nonostante ci siano dei problemi evidenti tra le due famiglie è arrivato il momento di abbandonare il rancore perché ci sono dei bambini in arrivo e che hanno tutto il diritto di vivere tranquillamente ed è proprio per questo motivo che sia lui che Unkar hanno deciso di organizzare questa riunione. È arrivato il momento in cui entrambe le famiglie devono perdonarsi a vicenda e raggiungere la pace per il bene dei loro figli. Demir cerca di rassicurarli affermando di essere d'accordo e di voler la pace per garantire un futuro sereno ai bambini e così si alza per andare verso il Mas offrendogli la mano per simboleggiare la fine dell'inimicizia. Nonostante l'iniziale esitazione il Mas stringe la mano di Demir però Demir chiede ad il Mas di dimostrare concretamente di volere la pace restituendogli i terreni dei suoi antenati. Il Mas però lo accusa di essere interessato solo alle terre e la discussione si fa sempre più accesa. Tutti i commensali si agitano e si alzano in piedi e il Mas comincia ad attaccare Demir accusandolo di averlo tradito in passato quando gli aveva affidato la donna che amava. A questo punto il Mas minaccia di non restituire le terre e promette di distruggere Demir e sua madre affermando che Chukurova sarà la tomba di uno dei due. Demir furioso e colmo di rabbia in risposta alle parole di il Mas estrae la pistola e spara contro la foto della famiglia di Fekeli distruggendola. poi se ne va continuando ad insultare il Mas. Quest'ultimo incolpa il padre per aver organizzato l'incontro e Demir a sua volta incolpa la madre. Il Mas continua a gridare e accusare il padre di non averlo ascoltato e di aver fatto di testa sua mentre vedremo Fekeli inginocchiarsi per raccogliere i pezzi della foto distrutta e recuperare la foto della sua famiglia. A questo punto Fekeli esasperato e ramaricato per quello che è successo urla il Mas di smetterla e se ne va con la foto tra le mani. Nel frattempo gli Yaman rientrano nella tenuta. Demir è furioso e continua a inveire contro il Mas ma sia Zuleia che Unkar gli dicono che ha sbagliato a chiedere i terreni. Demir non accetta la critica e ribatte che avrebbe pagato per quelle terre e non le voleva gratuitamente. Così Zuleia prende il Corano e chiede a Demir di giurare su di esso di non usare mai più la pistola né contro il Mas né contro altri perché ha paura che i suoi figli restino orfani. Demir si rifiuta di giurare ma Zuleia lo avverte che deve farlo se vuole avere una famiglia felice. Alla fine Demir appoggia la mano sul Corano e giura di non tirare fuori la pistola per primo e Zuleia gli stringe la mano. Mentre Fekeli esce dalla sua casa il Mas lo raggiunge e si lamenta ancora dell'invito a Demir alimentando nuovamente le polemiche. Fekeli cerca nuovamente di calmarlo dicendogli che deve rispettare anche le tradizioni dell'ospitalità. Il Mas così ribatte dicendogli si è visto come si è comportato Demir a casa sua ma Fekeli risponde che quella è la sua casa e di tutta la famiglia. Fekeli dirà anche ad il Mas che gli ha mancato di rispetto scagliandosi contro Demir senza permettergli di parlare per appianare la situazione. Fekeli tuttavia lo perdonerà solo perché Demir ha sbagliato di più tirando fuori la pistola. Vedremo Fekeli andarsene ancora arrabbiato e al posto suo arriverà Mushgan che tenterà in tutti i modi di calmare il Mas e di farlo per lei e per suo figlio. Il Mas così acconsente e l'abbraccia. Vedremo anche Beice sfogarsi con Mushgan dicendole che le sembra tutto assurdo e che non è possibile litigare per delle semplici terre e che comunque il Mas non ha tutte le ragioni. Il Mas sentendo le parole di Beice le risponde duramente dicendo che lei non conosce tutta la storia e che ha ragione lui così se ne va lasciandole da sole. Beice fa notare a Mushgan che la rabbia di Il Mas non può essere solo causata dalle terre ma che sicuramente c'entra il legame forte che ha ancora con Zuleya. Vista la situazione Beice darà un consiglio inaspettato a Mushgan. Divorzia da Il Mas prima che sia troppo tardi e abortisci. Il Mas non può essere un buon padre per tuo figlio. Mushgan offesa dalle parole della zia le dice che è suo marito e che lo ama. Successivamente ci sarà uno scontro vedremo uno scontro acceso tra Nazire e Beice infatti quest'ultima accuserà Nazire di ascoltare tutti i loro discorsi per poi riferirli. Nazire però non sarà zitta e le risponderà per le rime. Un car raggiunge Fecheli che la sta aspettando fuori dalla villa e si abbracceranno. Lei piange e si lamenta di quello che hanno combinato i due ragazzi. Fecheli le risponde che sono entrambi irascibili e si scusano a vicenda. Un car gli chiede cosa potranno fare con quei ragazzi e poi gli riferisce che Zuley ha fatto giurare Demir sul Corano che non estrarrà più la pistola. Ora però ha paura che Il Mas lo possa uccidere. Fecheli le dice che non succederà perché quando Il Mas prenderà in braccio suo figlio cambierà idea. Poi le dice di non essere triste perché anche lui soffre e vorrebbe sempre riuscire a farla sorridere. Mushgan così raggiunge Il Mas in camera e gli chiede se Zuley è la causa del suo odio per Demir. Lui risponde che la causa è ciò che fa Demir e di come se la cava sempre. Poi le chiede di credergli almeno lei dato che il padre non l'ha compreso. Mushgan gli fa presente che il padre è solo arrabbiato. Il Mas le dice che deve distruggere Demir ma che non può farlo se lei non sarà al suo fianco. Mushgan così gli risponde che lo sarà a patto che non ci sia spargimento di sangue perché non vuole che il loro figlio rimanga orfano. Il giorno dopo vedremo Beiche al telefono con un'amica che le sta parlando di e le sta parlando di Fekeli, elogiandolo e descrivendolo come un uomo elegante, ricco e proprietario di ville e casa e durante questa chiacchierata confesserà all'amica di essere molto attratta da lui. Ma nel mentre arriverà il Mas che chiederà informazioni su Fekeli ma nessuno sa dove sia andato. Vedremo anche a Tip cercare di instaurare una relazione con Sannier elogiandola per le sue abilità ma lei non si fa bindolare facilmente dalle sue parole. Nel frattempo Fekeli è in azienda ma quando vede arrivare il Mas se ne va senza parlargli. Il Mas così decide di raccontare tutto a Cetin di quello che è successo la sera precedente e afferma di voler distruggere Demir ma senza ucciderlo. Cetin è occupato, vedremo intanto Cetin è occupato a controllare i lavori nella villa di Il Mas quando viene interrotto da Fadik che gli offre del tè e inizia a flirtare con lui. Tuttavia Cetin rimane immune ai suoi apprezzamenti. In quel momento però arriva Gulten mandata da un car perché vuole parlargli immediatamente. Cetin ferma Gulten e le chiede di raccontargli cosa le è successo ma Gulten gli risponde di non cercarla più. Vedremo poi un incontro tra Gafur che viene convocato da Tip che gli dice che Sanie è più brava di lui nel lavoro e che lo sta umiliando quindi gli suggerisce di reagire come farebbe un uomo. Inoltre gli chiede beffardamente se è stato licenziato come fattore a causa dei polli. Gafur così gli risponde di essere arrabbiato con lui ma Tip gli ribatte che era suo compito controllare se erano buoni o meno i polli prima di acquistarli. Poi gli fa notare che il suo stipendio è diminuito visto che fa il pastore e gli chiede come farà pagare il suo debito di 99.000 lire. Infine a Tip gli intima di portargli immediatamente 5.000 lire turche entro due giorni o racconterà tutto ad un car. Così Gafur gli risponde che è impossibile per lui trovare quella cifra ma Tip gli suggerisce di ricorrere a uno dei suoi soliti tra virgolette imbrogli. Vedremo anche un car discutere con Zuleia e l'accusa di aver fatto giurare Demir sul Corano solamente per proteggere il Mas. Poi la esorta a perdere la speranza con il Mas e lasciare che lui e Mushgan siano felici adesso che aspettano un bambino. Nel mentre vedremo anche Beice e Fekeli a pranzo in un ristorante quando si avvicina una signora per salutare Fekeli che la presenta a Beice come la zia di Mushgan. La signora invita Beice a casa sua e rimasti soli Beice commenta come Fekeli sia rispettato da tutti. Zuleia e Mushgan si trovano casualmente nella sala d'attesa della loro ginecologa entrambe in attesa di una visita. Zuleia sembra essere molto riservata ma dopo qualche scambio di cortesia arriva il Mas e gli informa le donne di essere lì per assistere alla visita durante la quale ascolterà il primo battito del cuore del suo bambino. In seguito Mushgan e il Mas entrano nello studio per la loro visita mentre Zuleia incapace di trattenere le lacrime esce dalla stanza. Per oggi le anticipazioni del primo di aprile finiscono qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un bel mi piace al video.